Perché investire nel Forex? Come trarre profitto dal Forex e perché fare trading? Potresti non sapere. Ma il Forex è in realtà uno dei più grandi mercati del mondo con più di 5 trilioni di dollari di volume giornaliero medio transato e il 30% di questo è solo EUR barra OSD. Ciò accade anche se il mercato Forex non si muove più dell'1 a 1 barra 2 per cento al giorno. Negli ultimi dieci anni il fatturato giornaliero del mercato globale del Forex è quasi raddoppiato e gli spread sono diminuiti fino a una frazione di quello che erano una volta. Mentre si è visto l'arrivo di un gran numero di nuovi entranti, in qualità di investitori privati come mai prima. Tutto ciò grazie all'enorme potenza comunicativa di internet ora disponibile in tutto il mondo, combinata con la crescita di transazioni di bassissimo valore economico e capitale minimo. Oltre alla negoziazione pura delle valute, il mercato del Forex, FX, è utilizzato per sostenere transazioni di azioni, come base per alcuni prodotti derivati e per il cosiddetto edging risk, rischio di copertura, tra le molte altre funzioni. Il mercato interbancario si è trasformato in un sistema elettronico, con la creazione di più interfacce di programmazione delle applicazioni, appi tra le banche e tra i clienti e con l'esplosione dell'attività di vendita al dettaglio, ora, negli ultimi, sono finalmente tutti riuniti sotto lo stesso sistema. Il Forex trading e il mercato azionario hanno avuto un enorme successo da diversi anni a causa degli elevati profitti che gli investitori hanno fatto attraverso brokeresse in tutto il mondo. Finché si sa come leggere correttamente i grafici, uniti alle notizie finanziarie aggiornate, i guadagni possono essere molto elevati. Questo è ciò che le banche fanno da anni. Quindi, se il Forex è così grande, perché solo poche persone ne hanno sentito parlare? Probabilmente hai già usato il mercato del Forex direttamente o indirettamente. Ogni volta che si fa un viaggio in un altro paese e si scambia valuta, si è appena fatto una transazione nel Forex. Ogni volta che si acquista qualcosa in un altro paese e scambia valuta, si è appena fatto una negoziazione nel Forex. Per moltissimi anni il Forex trading era stato riservato alle privilegiate banche di investimento nella città di Londra o New York, ma ora è disponibile a tutti, ovunque si vive nel mondo. Porte aperte. All'esterno delle banche, uno dei principali cambiamenti strutturali è stato l'apertura dell'accesso al mercato ai singoli investitori privati. Gli hedge funds e i brokers al dettaglio entrando, hanno provocato una forte crescita nel segmento retail del mercato. Tutti credono che le banche siano market maker, ma non è così. La grande maggioranza delle banche sono effettivamente aziende di buy-in in quanto acquistano per eseguire qualcosa per se stessi o per conto dei clienti. Quindi perché utilizzarle ancora per fare trading online da privato? L'investitore privato del Forex trading non ha quindi più bisogno dell'intermediazione delle banche per piazzare ordini e quindi aprire e chiudere posizioni, ma lo fa adattando il tutto al comfort di casa, ai momenti che egli gradisce, ininterrottamente 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Guardando avanti. Il mercato FX ha un enorme potenziale di crescita, ma l'avvenuta trasformazione della struttura e della pratica attraverso la tecnologia non è ancora terminata. Insieme con la crescita del trading algoritmico, si prevede un'enorme espansione per far progredire l'uso degli smartphone. Ora che tutti hanno questa opportunità di ottenere un reddito extra online dal Forex trading, la crescita verso questo straordinario strumento finanziario è praticamente inevitabile. Essere un trader di successo è solo una questione di addestramento e formazione investendo un po' di tempo nell'autoeducazione. Questo può essere facilmente realizzato, anche gratuitamente, aprendo un conto demo con un broker online.